Con un fruto sport già laureato campione ma una bagara ancora accesa dietro ai capolisti il San Vittorio ospita il 2000 serve nel penultimo turno del girone G di prima categoria Granata fermati sull'1-1 dall'Azzurra nell'ultimo turno ospiti invece a Valanga sulla Modigliana col punteggio di 3-0 e andiamo così con la prima occasione proprio per il San Vittorio al terzo minuto di gioco con la chance da calcio d'angolo Poiri che viene respinta dalla difesa mentre all'undicesimo minuto di gioco il recupero palla proprio degli ospiti con la conclusione di Zanzi respinta da Marco Bernavini prosegue il forcing proprio della squadra ospite del 2000 che trova il vantaggio prima il palo e poi il tappin vincente di Filippi 1-0 dunque per il 2000 a Serbia che innesca in realtà la reazione del San Vittorio un minuto dopo arriva alla prima occasione da ottima posizione di Dall'Agata respinta dal portiere mentre proseguendo con le immagini al 32esimo è sempre il San Vittorio pericoloso sul fronte offensivo con Maurizio Lelli parata del portiere distinto da ottima posizione un minuto dopo è ancora una volta il San Vittorio pericoloso sul fronte offensivo con questa conclusione di Domenichini che si impenna sulla traversa arriva invece anche un altro episodio chiave del match come possiamo appunto vedere dalle immagini proseguiamo invece al 44esimo proprio con il San Vittorio che ha un'ottima occasione ancora sui piedi di Domenichini che da due passi riesce a sbagliare nella ripresa invece cambia tutto con un San Vittorio pericoloso e di nuovo in partita siamo infatti al secondo minuto il gol di Totaro che riporta la partita sull'1-1 tutto riaperto dunque a inizio di ripresa all'undicesimo ancora una volta il San Vittorio ancora una volta con Totaro un dribbling sta centra il tiro e centra il palo clamoroso poteva essere la personale doppietta per Totaro al ventesimo e ancora lui il più frizzante dei suoi qui un diagonale debole parato dal portiere ma non si ferma ci crede il San Vittore palla in profondità sbaglia la difesa ospite regala palla ancora una volta il San Vittore ed è ancora lui Totaro doppietta per il giocatore in maglia numero 11 del San Vittore che ribalta letteralmente la sfida e porta in vantaggio i padroni di casa al 46esimo invece arriva un rosso diretto per Burrioli dunque altra doccia gelata per il Polisportiva 2000 che rimane dunque con un altro uomo in meno al 48esimo altra chance sui piedi sul mancino di Maurizio Lelli si impenna sulla traversa ma il San Vittore è reattivo e nella ripresa riesce grazie alla doppietta di Mattia Totaro a ribaltare la sfida contro la Polisportiva Serbia col punteggio di 2 a 1 con un po' di più